Benvenuti a questa mattinata con la conclusione e la presentazione del progetto Rigenera l'esperienza di Gottanuno, un racconto per guardare avanti. È un progetto come poi verrà raccontato dai regatori che con me siedono oggi al tavolo, che fra poco presenterò, che è partito nel 2020, poi è stato in qualche modo vittima di Covid e di problematiche di natura tecnica che si sono però risolte ed è arrivato oggi alla sua piena realizzazione. È un progetto molto articolato, che ha visto l'intervento di diversi soggetti e che si iscrive completamente, direi anche in maniera molto efficace, all'interno di una delle missioni che il Comune di Gottanuno ha fatto sue con il documento unico di programmazione, il DUP, per il triennio scorso e anche per il triennio che viene, ovvero la missione dell'appartenere. Cosa intendiamo per appartenere? Appartenenza è conoscere innanzitutto la propria realtà, da dove si arriva, quali sono le radici della comunità che vive in questo paese, non perché si abbia una qualche nostalgia del passato, ma perché conoscere le proprie radici permette di avere un orizzonte più solido e più lungo davanti a sé. Quindi la prospettiva è sempre quella del futuro, ma come quando andiamo in macchina abbiamo bisogno anche dello specchietto retrovisore che ci faccia capire da dove arriviamo e che cosa abbiamo alle spalle. Tutto ciò che abbiamo alle spalle è una ricchezza ed è opportuno e doveroso anche ricordarcelo per andare avanti. Il progetto di genere ha in sé una doppia anima, come dicevo, di memoria, ma anche di prospettiva, di desiderio e qui non anticipo nulla perché saranno altri a illustrare questa doppia veste. Presento chi sta con me al tavolo, quindi saluto e ringrazio Marcello Mossali, Presidente di Agenda 21 Isola Darmine Zingonia, l'architetto Davide Portini, direttore del POIN 21 di Agenda 21, con me Claudio Ferrande, consigliere comunale del Comune di Montalunco. Abbiamo Gianpaolo Gritti e Silvia Di Mauro della Fondazione Architetti di Bergamo, Marco Bovati e Silvia Di Mauro del Politecnico di Milano, Dipartimento Architettura e Storia Urbana. Claudio farà un po' da, come dire, sindaco oggi, lo fai un po' tu, fai un po' tu i tempi e coordini un po' i lavori. Tutto questo, buona mattina a tutti. Grazie. Buongiorno a tutti, più che sindaco, però i tempi. Cerchiamo di stare nella nostra scaletta. Questo progetto di genere è stato una modalità di avvicinamento anche del cittadino alla questione urbana, alla questione urbanistica, proprio perché questo progetto arriva dal basso, arriva con le indicazioni dei cittadini, si è costituito un gruppo di persone, di volontari, che abbiamo chiamato esploratori, che hanno un po' lavorato, come diceva giustamente Rossano, alla memoria e quindi si è costruita una mappa nella quale il suono è l'elemento dominante, e quindi poi, lo vedremo poi nell'uscita, c'è la possibilità di, attraverso un QR code, avere delle indicazioni riguardo ai luoghi attuali, ma anche a ciò che questi luoghi rappresentavano in passato. Quindi il lavoro proprio di ricerca rispetto alla memoria dei luoghi. Non vado oltre perché, appunto, poi ognuno darà la indicazione su quello che è stato il lavoro. Passerei la parola a Marcello Mossali, in qualità di Presidente di Agenda 21, per il suo consiglio. Considerazioni molto veloci, grazie Claudio, grazie Rossano, perché chi poi mi seguirà sarà certamente più importante nello spiegare come accompagnarci dentro il senso di questo progetto. Allora, l'Agenda 21 è un'associazione che comprende una ventina di comuni dell'isola Bergamasca e dell'area di Danone, Zingonia. Io sono l'attuale Presidente, ha un'esperienza ormai ventennale alle spalle, ed è una delle poche esperienze rimaste in tal senso in Italia. Persegue una serie di finalità, di progettualità, di attività, che fanno come il caposaldo dell'azione e della politica alcuni valori, quali l'integrazione degli aspetti sociali, ambientali e economici delle nostre comunità. Piuttosto che la sostenibilità e il tema dell'autosostenibilità, come poi ci racconterà Davide Fortini, che è il cuore pulsante della nostra associazione, è un tema importante per le nostre comunità oggi. Il senso di una partecipata a più comuni di questo stampo risiede sostanzialmente nel fatto che ci sono alcune politiche che devono necessariamente avere delle ricadute che superano i confini territoriali. Io ringrazio il Comune di Botanucco che ha deciso di stare all'interno di questo progetto di rigenerazione dalla A alla Z in tutte le sue fasi. Mi piacerebbe che a partire dai risultati che ci verranno presentati in questa mattinata il tema della rigenerazione urbana è un tema molto importante nelle nostre comunità oggi, comunità e amministrazioni che sono tutte in fase poi anche di definizione del PGT a livello locale, che hanno il governo del territorio, possono in qualche modo dialogare anche sulla base di quei desiderati a cui prima facevano riferimento Rossano e Claudio. Perché Agenda 21 ci sono due parole a cui è particolarmente legata, che appartengono anche al titolo di questa mattina. Il termine territorio che indica una cura, che indica una storia, persone, luoghi, un senso di appartenenza, diceva prima il Sindaco, un senso di memoria, di tradizione che deve essere attraverso la narrazione raccontata e trasmessa dai grandi, dagli adulti alle giovani generazioni. E dentro quei percorsi di informazione, di formazione che Agenda 21 sostiene, questo è un po' l'obiettivo e lo scopo, quello di rendere protagonisti l'intera comunità. Io credo che nel progetto di rigenerazione che stamattina ci verrà presentato, questi aspetti, questi valori saranno ricordati insieme anche al tentativo, alla sfida, al desiderio di immaginare, di vivere questi territori in modalità, in maniera molto, molto diversa rispetto a come siamo abituati. E questa è certamente una sfida, una delle tante che Agenda 21 sta portando avanti ormai da questi vent'anni e l'augurio è proprio che il corato tante volte di tentare accanto ad una visione molto più allargata possano aiutare tutte le comunità e la nostra associazione naturalmente a rispondere a quei principi di sostenibilità, di integrazione, di innovazione di cui si è fatta sempre carico all'interno dei progetti e delle iniziative che abbiamo immaginato, pensato e portato avanti. Io mi limiterei qui anche perché poi gli interventi sono davvero tanti e poi naturalmente siamo anche disponibili per domande e curiosità. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie di essere qua. Tengo la voce alta senza usare il microfono. Allora, il mio intervento è il racconto di dove è nata questa esperienza e di dove è arrivata e poi come si è sviluppata, lo racconterà la Fondazione Archivetti Bergamo. Allora, perché l'associazione a un certo punto decide di mettere nel paniere dei propri progetti il tema della rigenerazione urbana? Sono stati due motivi. Il primo, l'emanazione dalla legge regionale sulla rigenerazione e contemporaneamente la conclusione di una nostra attività che ha in qualche modo riattivato alcuni spazi pubblici verdi presenti nei comuni abbandonati. Questi due elementi ci hanno consentito di ragionare sull'opportunità di fare un passo in avanti e andare a ragionare sugli spazi, diciamo, non più usati e potenzialmente da riattivare all'interno dei tessuti urbani. La legge regionale ci ha dato l'opportunità di riflettere sul meccanismo che attivava rispetto ai vuoti urbani. La legge che ha avuto dei meriti nel riattivare dei percorsi di riuso di grandi aree dismesse i piani di guardare territorio erano invitati a identificare degli ambiti di rigenerazione urbana diciamo che dal nostro punto di vista questa azione prettamente indirizzata all'operatore economico cioè a chi aveva le energie finanziarie per intervenire su questi grandi comparti di rigenerazione poteva essere integrata da un'azione più dal basso in cui, come abbiamo fatto per le aree verdi, di cui vi dicevo la prospettiva di cosa potevano diventare queste aree verdi e di chi poi se ne sarebbe occupato nella gestione e nella vita di questi spazi poteva essere una strategia appunto di integrazione quindi integrare la grande area e le grandi superfici da rigenerare con una costellazione di piccoli spazi dove la rigenerazione era forse meno diciamo importante dal punto di vista edilizio è invece più importante dal punto di vista dell'iniezione di vitalità se non dovessi usare un termine appunto che da una parte c'era e c'è stato il percorso di rigenerazione quello che abbiamo tentato noi è stato quello di rianimazione cioè di non demolire nessuno spazio ma di usare gli spazi esistenti per rimettere vita all'interno di questi spazi e questo è quello che è successo, con successo in quell'azione precedente a quella di cui stiamo parlando che è stata questa realizzazione, questa costellazione all'interno dei venti comuni di aree verdi che sono state trasformate e sono state date, trasformate in senso naturalistico e sono state date in gestione a soggetti molto diversi tra di loro in alcuni casi a chi poteva attraverso la gestione di questi spazi affrancarsi da una condizione un po' di stranità in alcuni casi a chi ha usato queste aree per fare delle azioni di sperimentazione penso ad esempio il castagneto che abbiamo realizzato a Filago dato ai castincoltori aerobici piuttosto che ad azioni dove queste aree sono state trasformate in senso di microproduzioni e occasioni di socialità penso ad esempio le aree che abbiamo trasformato ad almini insieme alla parrocchia, alla cooperativa sociale che si aggancia alla parrocchia quindi noi siamo tratti a condizioni di avere da un lato la legge regionale dall'altro questa nostra esperienza rigenerativa di un sistema di aree di territorio di aree libere presenti nei nostri comuni quello che abbiamo deciso è stato quello di intraprendere una strada in cui questa riflessione si poneva all'interno dei tessuti costruiti l'obiettivo generale è stato quello di quindi ampliare lo spazio pubblico a disposizione dei cittadini cioè il tema della rigenerazione è una rigenerazione per offrire più opportunità di pubblico non stiamo già nella sua dimensione privata non ha una rigenerazione che ne fare con gli interessi dei singoli ma con gli interessi della politica allora come affrontare questa cosa? nella nostra tradizione ha fatto una prima fase di avvicinamento conoscitivo e quindi agli amministratori, ai tecnici comunali e ad alcuni soggetti del territorio è stato offerto un percorso formativo in cui prima il Politecnico di Milano poi l'Apsus, che credo conosciate quello che ha istituito il regolamento per l'uso di tutti i comuni e poi il Green City hanno organizzato dei seminari di avvicinamento al tema di cosa oggi si può intendere come rigenerazione e in più abbiamo dato come sfondo anche alcune esperienze importanti nazionali che hanno lavorato in questa direzione della rigenerazione penso ad esempio all'esperienza di Riusiamo in Italia di planimetrie culturali piuttosto che di tutto quello che ha fatto la Fondazione Fizzcaraldo non so se sono nomi che voi conoscete se siete interessati al tema della rigenerazione vi invito ad andare a guardare questa esperienza che sono esperienze fondative di quest'altro modo di intendere la rigenerazione urbana fatta questa prima fase di avvicinamento diciamo culturale al tema il passaggio successivo è stato quello di incentivare i cittadini residenti nei venti comuni soci a fare un'operazione di mappatura all'interno dei comuni dei luoghi urbani che loro ritenevano interessanti da riusare quindi avanzi abbandonati, sottutilizzati usando come supporto la piattaforma anche Second Life dell'Ordine degli Architetti e quindi questo lavoro anche attraverso i comuni ha permesso il censimento di oltre 50 spazi, edifici, negozi, piazze, giardini ritenuti oggetto potenziale di un intervento di rianimazione questo è il progetto che non potremmo che la loro genera forse dovrebbe chiamare rianima ma non avevo mai andata di rigenerazione e quindi questo è stato un primo step di avvicinamento al desiderio dei cittadini perché le schede caricate, voi conoscete da tante Second Life immagino, non è solo dire qual è l'oggetto ma anche quale desiderio noi, quindi i cittadini mettono su quell'oggetto e quindi un'azione, come dicevo prima lo sarà anche di avvicinamento a un ruolo diverso del cittadino non è solo l'utente finale di scelte ma anche il potenziale costruttore di scelte sul destino delle proprie città, dei propri paesi bene, fatta questa seconda fase il terzo step è stato quello di identificare in alcuni di questi comuni degli ambiti particolarmente densi di progettualità su cui sono stati sviluppati dei progetti in particolare sei sviluppati non da noi ma dai soggetti del territorio che avevano interesse a riusare quegli spazi sono sei progetti che sono stati da noi accompagnati progetti interessanti carichi di creatività che adesso non vi racconto là ci sono sei schede di questi progetti però c'è un video in cui voi potete, chi interessato, recuperare insomma la narrazione di questi progetti che sono stati candidati al bando Creative Living Lab del MIBAC nessuno di questi progetti è stato finanziato ma la cosa interessante è che questi progetti non solo hanno espresso un grado di innovazione potenziale delle politiche urbane evidente ma che anche hanno iniziato a realizzare un'altra visione del territorio cioè quella della costruzione di una rete di servizi innovativi presenti all'interno dei nostri comuni questo per noi è un tema importante perché poi anche Peterio parla di policentrismo ma quello che noi facciamo come associazione è sempre stato non potendo e non pensando di poter costruire e realizzare in ognuno dei venti comuni un servizio nuovo, un'occasione nuova quella di realizzare interventi all'interno di alcuni comuni e poi invogliare invitare i cittadini residenti negli altri comuni ad usufruire di quel servizio come se fosse loro e quindi ci troviamo spesso nella difficile condizione anche rispetto agli amministratori di chiedere loro di spiegare che i servizi che stanno in un altro comune non sono di quel comune ma sono anche promossi dal comune vicino a Conterne e questo è un salto di prospettiva secondo me molto interessante e cioè appunto che il territorio di cui prima parla Marcello è un sistema di relazioni e di scambi e questa cosa però naturalmente è difficile farla passare soprattutto nelle programmazioni comunali dove ogni comune tenta di arraffare per sé il più possibile escludendo gli altri anche questo progetto di rigenera dico anche questo qua di rigenera ha lavorato in questa direzione cioè di spiegare che questa rete di potenziali nuovi servizi non era una rete a disposizione dei comuni c'è il progetto azzurro ad esempio che era qua di Bottanuco non era un servizio nuovo per i cittadini di Bottanuco fatto dall'amministrazione di Bottanuco ma era un servizio nuovo per i cittadini di Bottanuco ma anche dei comuni dell'Isola soci ma non solo che apparteneva e che sarebbe appartenuto anche agli altri comuni e naturalmente questo è un salto culturale che è ancora secondo me un po' da fare nella relazione anche tra le strutture di governo del territorio abbiamo fatto questi 6 progetti e a un certo punto appunto non sono stati finanziati eravamo pronti a far partire l'esperienza sperimentale qua di Bottanuco sarebbe stato interessante perché siamo stati a un passo da portare qua a Bottanuco anche in subsonica che avrebbero fatto un lavoro sapete che, non so se lo sapete mai il leader subsonica fa tutto un lavoro di rapporto tra musica e suoni della natura e quindi c'era questa cosa qua poi insomma questi impedimenti hanno fatto saltare il tutto ma per dire che a un certo punto abbiamo detto bene però questa cosa deve andare avanti e quindi di nuovo in rapporto con la fondazione a Piederti Bergamo abbiamo detto facciamo il passaggio successivo il passaggio successivo è quello che poi racconterà Gritti io chiudo dicendo, facendo alcuni riferimenti rispetto a questo iter di altri temi che sono stati per noi importanti in questa esperienza ma in genere nelle altre che è un po' accennato uno, il tema della partecipazione il tema della partecipazione per noi è sempre stata intesa ed è intendersi come un'esperienza profonda di relazione con le comunità perché far partecipare alle comunità a nostro avviso significa aiutare a reinterpretare il ruolo di abitante e quindi la partecipazione è qualcosa di diverso e di non semplice e indolore come spesso sta passando recentemente la partecipazione è una dimensione altra e la partecipazione vuol dire ricostruire un'idea di cittadino un'idea di abitante e ciò prima lo sanno qualcuno che ha la capacità di costruire una propria conoscenza ma anche di esprimere un proprio desiderio e l'altro aspetto della partecipazione che ci tengo a sottolineare oggi è quello dell'apprendimento reciproco per noi la partecipazione non è il spostare il potere decisionale da una parte all'altra ma è costruire consapevolezza e capacità di dialogo tra quelli che si chiamano i saperi contestuali cioè i saperi di chi abita un luogo con i saperi esperti allora per me è interessante credo per noi tutti dovesse interessante oggi perché a fronte di un'esperienza che nasce dal basso c'è parallelamente un'esperienza di saperi esperti anche quella del Politecnico che ha lavorato parallelamente e quindi l'attesa è che nella definizione uno strumento urbanistico questi due saperi si contaminano, parlano nessuno cercando di superare l'altro ma entrambe cercando di arritirsi attraverso le argomentazioni che hanno e quindi chiudo sul tema partecipazione la partecipazione ragiona anche almeno per noi su dei modelli di democrazia in particolare quella deliberativa che è un avvitimento della democrazia rappresentativa che è quella in Cuba sostanzialmente quindi tema chiave partecipazione un altro tema chiave è il territorio vi ho già detto alcune cose e sul tema territorio credo che sia importante riconoscere che alcune delle cose che abbiamo usato come concetti derivano da un'esperienza quello della scuola territorialista e del compianto Alberto Magnaghi non so quanto si occupano di urbanisti quanti conoscono e quanto abbiano conosciuto la storia di Alberto Magnaghi una storia importante nella città urbanistica italiana che ha lavorato sul tema di territorio e in particolare ciò che mi sembra importante ricordare oggi è la critica all'urbanistica che ha realizzato spazi quindi l'urbanistica funzionale a favore invece di un'urbanistica che produca luoghi e quindi un'urbanistica che lavori sulla dimensione di urbanità facendo tutte queste operazioni riconoscendo come ruolo centrale quello dell'abitante di cui abbiamo detto prima e il terzo elemento di sfondo che mi sembra interessante emerga da questa esperienza che quindi speriamo possa andare avanti insieme a tutte queste idee e questi temi che sto ponendo un po' così dubitativamente ma insomma credendoci almeno un po' è quella della dell'ibridazione degli spazi i progetti che abbiamo fatto che hanno fatto il territorio che noi abbiamo adesso possiamo raccontare ma anche l'idea di una città a venire crediamo debba essere sempre un'idea di una città che ragiona meno per separazioni funzionali e più per l'ibridazione delle occasioni di uso di un dato spazio e questa idea dell'ibridazione è un'idea centrale in quella politica delle città a 15 minuti oggi molto in voga nelle grandi città chiaro che farei 15 minuti è tutto come dire forse è fin troppo tempo ma non è fin troppo tempo se noi ritorniamo a quell'idea di rete di città che nella mia mente è ad esempio l'isola Bergamasca perché io non riesco a immaginare io che vengo da Milano l'isola Bergamasca se non come un'unica grande città fatta soprattutto di agricoltura che ha dei quartieri che sono i paesi e allora ragionare sulla dimensione dei 15 minuti per me vuol dire immaginare la possibilità di fruire di servizi all'interno del territorio che stando in un'ottica unica di territorio pur se posizionati in paesi diversi ecco l'esperienza di Rigenera ha avuto questo substrato di attenzione di dimensione che non tanto si è confrontato col tema della sostenibilità ma in particolare ci sono la sala dell'autosostenibilità cioè di come tutte queste pratiche riescono a reggersi da sole senza iniezioni dall'esterno di risorse e cose di questo genere i progetti che non avevo pensato ad esempio erano tutti autosostenibili dal punto economico finanziario e gestionale è importante pensare questo proprio per non avere l'idea della sostenibilità come di un qualcosa che ha a che fare con l'industria con la produzione che si rinnova un po' e che piove sui territori ma da essere territori che riprendono questi temi e li rifanno proprio reinventandosi e esperiamo appunto che quello di oggi non sia un punto conclusivo ma un punto di partenza cioè questa esperienza non è ricca di visioni di opportunità e speriamo di riuscire a portare avanti l'associazione di 20 comuni e da genetuno è molto piccola insomma noi cerchiamo attraverso strategie di tipo diverso di far avanzare tutte queste idee vi ringrazio e lascio il lavoro passiamo la parola adesso all'architetto Gritti che ci racconterà come Fondazione Architetti ha diciamo tradotto questa esigenza di progetto in un progetto specifico grazie buongiorno a tutti buongiorno a tutti ringrazio ovviamente Agenda 21 che ci ha coinvolto in questo progetto ma anche come in questo progetto probabilmente l'ha traspollato e quindi in qualche modo siamo riusciti a portarlo a termine oggi con questa giornata e poi io troverò l'intruttore in base a quello che ci ha raccontato adesso Davide solo per ricordare un po' qual è la genesi invece dei nostri progetti che abbiamo svolto in prima come ordine degli architetti di Bergo che io ho fatto al presidente dal 2017 e dal 2020 e poi come Fondazione di Architetti Bergo dal 2020 in avanti in cui il uno degli strumenti che usiamo normalmente che abbiamo usato anche qui a Budanucco è stato praticamente generato nel 2019 il 2019 è l'anno in cui l'ordine degli architetti festezza diciamo l'anniversario del 70esimo anniversario del Ciam il 70esimo anniversario del Ciam il Ciam è stato quel congresso internazionale archito moderna che qualcuno magari ha detto che lo vuole riconoscere perfettamente che ha visto partecipare tutti i più grandi architetti del tempo nel 1940 non avranno partire dalle corpusie ai più grandi architetti di quelli per discutere una cosa che non discutiamo mai oggi ma oggi che era evidente il futuro delle città che è ancora la stessa cosa che stiamo discutendo adesso non abbiamo poi rilevato grandissimi cambiamenti rispetto a quelle che erano aspettative del 49 d'oggi il tema dell'automobile è sempre un tema assolutamente non mancato mai risolto ma anche il tema di lugio di spazi comunque di servizi a servizio della cittadinanza apposta in quell'anno noi costruimmo una piattaforma oltre a fare il convegno è una cosa che si sa fare è facile ma ritenendo più importante costruire uno strumento è lo strumento di business di bene una piattaforma che fondamentalmente si occupava del tema della cura in quegli anni in quei quattro anni ci erano messe in parole d'ordine cura dei territori quello doveva fare l'ordine in quei quattro anni quello ha prodotto praticamente questa piattaforma c'è stato in mezzo il covid qualche problema abbiamo avuto ma non abbiamo ci siamo persi d'animo e continuiamo a crederci un po' più di un po' ci crediamo molto a un tipo di rigenerazione che praticamente ha bisogno principalmente gli abitanti lo diciamo da tecnici che abbiamo magari redatto anche i piani urbanistici quant'altro che hanno ascoltato l'amministrazione ma oggi di quanto più importante la voce del cittadino rispetto a temi che ovviamente devono affiancare le analisi e i supporti che ovviamente la parte diciamo tecnica può produrre in quell'anno in acqua l'Atlante Second Life che è quello strumento che abbiamo usato anche qui a Bottanucco nella logica che la partecipazione è principalmente ascolto però per ascoltare bisogna raccogliere una voce se non si raccoglie la voce è silenzio qui per raccogliere una voce noi abbiamo istituito questo Atlante che ha un Atlante di voci che praticamente in pratica esprimono desideri il desiderio voi sapete è il motore per cui tutti noi comunque ci sentiamo vivi o comunque perseguiamo cose che vogliamo fare la nostra vita desiderare qualcosa desiderare un cambiamento della propria città è un metodo d'alternativo a quello economico tipico oggi del PNRR di tutto quello che ci stanno raccontando si sostituisce un po' il fare per fare tipico oggi del PNRR dei progetti che ovviamente vengono un po' cavati anche dall'altro a quello invece di fare delle cose che siano utili per la città e per le persone che abitano del territorio questo progetto poi ha avuto è stato partecipato praticamente diciamo che è stato usato durante la seconda oltre che a Bottanucco anche a Nembro a Zanica e a Bergamo con altre sperimentazioni ed oggi diciamo che è un progetto che è nato praticamente in ambito provinciale ed è diventato praticamente in ambito nazionale in quanto sia le fiori provinciali di Brescia di Rigni Cremona che giusto i miei di Padova hanno acquisito la piattaforma per ascoltare i visibili della cittadinanza magari possiamo andare avanti per qualche slide così parlo un po' meno io vedete qualcosa che è diventato più interattiva la cosa però principalmente l'Atlanta è nascita un'attività che sposta l'attenzione da quello che sappiamo fare in maniera assolutamente come campione del mondo che è il lamento ok perché l'italiano notoriamente per gli architetti sono poi una classe lamentosa molto più in ogni caso diciamo che come esattività il lamento è il nostro diciamo DNA ok spostare il lamento all'opportunità cioè quello che diceva un po' Davide è essere capaci di esprimere un desiderio sul futuro della città è un tema sempre più importante per chi amministra le città ovviamente perché poi se l'amministrazione ha una buona amministrazione ovviamente perché sa interpretare ma non importa anche i desideri della propria città di Venezia quindi quello è un loro ruolo che va in silenzia e ovviamente anche per fare questi tipi di trasformazioni come diceva non c'è bisogno di chissà quanti e con diciamo chissà quali denari o quantità di denari c'è bisogno principalmente di persone e anche qui nasce appunto prima questa attività che è un'attività di ascolto con l'obiettivo di conoscere e valorizzare il territorio di Bottanuco tramite due mappature una virtuale che va su due piattaforme uno è la piattaforma Atrambe Second Life quella che vi ho raccontato adesso la seconda è scoprobottanuco.it è un portale che aveva già costruito praticamente il Comune Bottanuco e l'altra invece è fisica cioè lo troveremo anche in giro andando in giro per Bottanuco troveremo degli segnali che ci raccontano questa esperienza cosa abbiamo fatto per far questo abbiamo chiamato la cittadinanza ci siamo a passi della collaborazione ovviamente del Comune ma anche della cooperativa Chimia che qui c'è Andrea Freda che saluto e grazie per il lavoro svolto durante tutto il percorso e abbiamo diviso le persone che hanno partecipato in esploratori quindi esploratori di racconti esploratori di suoni esploratori di luoghi esploratori di macchine in buona sostanza possiamo andare e da lì abbiamo praticamente raccolto tutta una serie di testimonianze di quello che era comunque che c'è dentro e insieme nel paese in voltanunque quindi in workshop coordinati con Giulia Messina queste persone che hanno partecipato hanno creato i contenuti che poi sono entrati in queste due piattaforme sia da andante a scuola che in scuola in voltanunque sono state fatte appunto delle campagne di esplorazione con i partecipanti e sono stati registrati i rumori i suoni immagini portate immagini testimonianze proprio relative a qual è la diciamo la dimensione storica anche di voltanunque ovviamente si ringrazia in particolare questo lo dico anche a nome di Giulia Messina che purtroppo oggi non ha potuto intervenire la partecipazione di Ilario Carminati che memoria storica praticamente del vostro paese è una ponte in maggiori di dati Matteo Quadri e Roberto Poesinetti ovviamente ci sono stati tre qui attivi nel lavoro oltre ovviamente tutti gli altri che hanno comunque partecipato possiamo andare avanti cosa è il risultato il risultato è questo che vedete lì nell'immagine ma vedete anche qui in maniera reale diciamo le vedrete praticamente le vedrete praticamente appesi a segnalare i luoghi che praticamente contengono la memoria storica del paese quindi praticamente sul territorio vediamo questi QR code cedere a una scheda che racconta sia dal punto di vista sonoro che dal punto di vista immagini ma anche dei testi che cosa c'era in quel posto e quale era praticamente il destino di quel luogo prima o in forma storica ancora e al tempo stesso lo avremo praticamente su di due piattaforma online dalla parte del scopri Bottanunco sarà una mappa in cui appunto ci sia questa possibilità di ascoltare appunto di via sonoro il tema dei luoghi di memoria o appunto i suoni e praticamente di determinanti quasi 30 luoghi che sono stati mappati dalla cittadina andiamo un po' davanti e a parallelo a questa mappa geosensoriale una mappatura della memoria e quindi del ricordo e quindi quello che comunque è comune comunque la vitalità del comune la storia stessa del comune ci ha affiancato la trante second life con che è un portale che si trova sul web facendo www asrarchiettura.it che si arriva normalmente a quale si possono caricarli direttamente al cellulare ovviamente immagini adesso possiamo escorrere immagini e quant'altro diciamo che principalmente a trante second life abbiamo una tetaforma di visite che vuole prendersi sicuro dei territori e che innesca un processo di ascolto per costruire un nuovo futuro ascolto conoscenze il paesaggio che determina la cura per un luogo per un territorio queste sono le mappe questa è la mappa praticamente delle signalazioni che abbiamo avuto durante la campagna che abbiamo fatto in quei workshop sono nuove signalazioni sono nuove siti praticamente sono tutti riscontrabili sia sul sito ovviamente della trante second life che ovviamente sul sito scopri bottanucco dove c'è la parte diciamo nella mappa scopri bottanucco dove c'è la targhetta la parte second life trovate questi dove c'è invece la mappa di un microfono diciamo di un autoparlante di un autoparlante invece trovate le segnalazioni storiche dell'elemento quindi vi sono vari desideri espressi ad esempio sul tema delle cave come non fare un percorso monta al bike alcuni recuperi di lizzi che vogliono che vengano finiti questi ventieri diciamo che siano un po' non finiti da tempo magari nel meglio sono stati finiti nonché un doppio visibilio nel senso che una segnalazione doppia grande cosa una era addirittura prima dell'inizio dell'attività perché noi principalmente questa attività andiamo a fare nelle scuole nei percorsi di alternanza scuola-lavoro nei licei prendendo le terze le quattro dei licei quindi voglio dire il futuro delle nostre città coloro che abiteranno in città nel nostro prossimo futuro si esprimono e hanno espresso circa 500 desideri oltre 500 desideri sulla provincia i vergon desideri che adesso stiamo mappando la nostra volta per andare a sensibilizzare i comuni per poter poi fare il piano 2 che è oltre quello dell'ascolto quello dell'azione non è banale ovviamente però ovviamente è interessante che quando ovviamente si riscontrano più segnalazioni con lo stesso edificio ovviamente quegli edifici vuol dire che hanno un'attenzione particolare a parte la cittadinanza poi in un certo senso qua uno che diceva praticamente che non facessero un luogo diciamo per l'avviamento del lavoro dall'altro mi sembra di ricordare che era qualcosa per i ragazzi i co-working gli orti urbani eccetera nella fase con quel tipo di esempio la fondazione che ordina a suo tempo innescò un processo con un privato per la riportare il concorso in due fasi per l'estito sozio a Gario a Bergamo 5 mili di guardate le cose che sono adesso ad oggi in attesa di nulla ostia da parte del Comune di Bergamo per il permesso di costruire ma è un'attività che è arrivata fino all'esecuzione diciamo nel senso che non sono partiti i lavori ma almeno dal punto di vista progettuale l'intento è arrivato a buon fine questo è l'ultimo desiderio di via Damiano a Chiesa in cui si richiede ovviamente di ristabilire e ridare nuova vitalità alla zona del vecchio bar dell'ex bar quindi questo è un po' il progetto che abbiamo svolto ovviamente con Agenda 21 con noi in collaborazione con Alchimia ovviamente oggi andremo a visitare alcuni di queste targhe che poi andremo a targare praticamente in oltre 30 luoghi sul territorio che ovviamente racconteranno una storia che è la storia di questo paese che è una storia che va preservata e il dato che la preservazione delle storie oggi come oggi non è solo sui libri o sulla carta diciamo scritta ma anche e soprattutto anche sui strumenti che voglio dire non sono strumenti che ormai diciamo sono diventati indispensabili per la nostra la nostra attività quindi è un processo che nasce assolutamente a passo e che ovviamente ha bisogno di voci per essere raccolto per essere raccontato e quindi è comunque un lavoro che continua nel senso che per noi non finisce oggi l'attività di botanucca nel senso che dell'Atlante continua quindi comunque volesse sul proprio territorio segnalare cose ovviamente tramite l'Atlante noi le raccoglieremo con assoluto piacere per poter ovviamente poi provare a dialogare con le amministrazioni per trovare le modalità per poter riqualificare spazio oggi lo stiamo facendo sempre con il Comune Zanica per il centro sociocultural il centro di Comune Zanica edificio di discuso che stiamo facendo un lavoro di partecipazione e a breve partirà una campagna di progettazione partecipata con la cittadinanza lo stiamo facendo a Nembro che a primavera faremo praticamente l'attività di autocostruzione di un parco su tutti gli elementi di arredo del parco con anche la collaborazione di un'attività di un'attività di un'attività che abbiamo detto e ci confidiamo che un punto non finisca qui e con il titolo un racconto per guardare avanti guardi questo sia solo un motivo per guardare avanti con più coscienza e conoscenza di quello che abbiamo sotto gli occhi e sotto mani grazie 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 all'architetto di solo un inciso mi permetto di fare visto che in sala non ci sono soltanto architetti ma anche cittadini e cittadine del tipo tronco è evidente che 30 35 punti non esauriscono non possono esaurire come dire la mappa completa di tutti quei luoghi che hanno una memoria o che hanno una prospettiva quindi sicuramente l'impegno del comune è quello di rendere poi espandibile questa prima selezione di punti e poi andare evidentemente ad allargare anche la maglia e la rete e la lunghezza di questo percorso che trovate come quinto percorso nel portale scopri di Voltanunco scopri di Voltanunco che trovate sul sito del comune di Voltanunco prego sì è stato talmente rastino che nel frattempo quando sono arrivate le prime marchette quindi in quattrote già ci sono venuti in mente altri luoghi che meritano di essere cominciati quindi è un lavoro che vogliamo portare avanti e che con gli cittadini potranno dare delle indicazioni in evoluzione diciamo ok nell'ottica di un comune che vuole ricordare la propria memoria ma che vuole anche avere un risuardo verso il futuro e che la necessità anche fisiologica per esempio di fare una mariana per il BGD c'è stata anche la così ci siamo fatti una domanda abbiamo detto siamo in grado da soli di fare tutte le valutazioni che servono per fare queste scelte ci siamo appalsi della competenza quindi del ricordo scientifico del Politecnico di Milano in particolare del dibattimento a cui fa capo anche Marco Movati che ha svolto un lavoro che è stato definito sui preparatori al piano di governo del territorio che indaga sul territorio di Montalunco e che ci dà degli spunti e delle riflessioni che poi devono essere in qualche modo tradotte anche con l'uso dell'uso di quindi posso avere la parola Marco per illustrare quello che è stato il mio progetto su molto grazie Claudio grazie a tutti grazie per l'invento hai già detto quasi tutto quindi io chiudo nel senso che hai inquadrato praticamente il tema c'è una parola chiave forse quella più significativa e il tema è la formazione di riflessione strategica perché questo lavoro che il comune devo dire con una certa congimiranza ci ha chiesto di fare non è la scrittura del piano della variante di piano non è neanche come dire quella ricerca e quell'ascolto che è stato fatto dall'ordine dalla fondazione e neanche la riflessione di agenda è qualcosa che sta in mezzo è qualcosa che forse azzardo prima di ogni piano non l'aveva fatto perché è un momento nel quale l'amministrazione attraverso delle persone competenti e attraverso una riflessione generale cerca di produrre una conoscenza del proprio territorio conoscenza che naturalmente in questo caso è diciamo strategicamente orientata a costruire delle visioni o delle strategie allora tutto ciò non è norme leggi e regolamenti non dice cosa bisogna fare ma semmai è ciò che precede la riflessione scusate l'azione normativa del piano in questo senso la finalità di questo lavoro è stata proprio quella di produrre delle visioni strategiche cioè di produrre delle ipotesi di futuro naturalmente ipotesi di futuro che come cercheremo di spiegare sono fondate radicate nella realtà di Bottanucco a partire dalla convinzione che qualsiasi rigenerazione qualsiasi sviluppo sostenibile di un territorio si debba fondare sulla profonda e interdisciplinare conoscenza del territorio stesso perché come dire i voli pindarici sia alla scala del territorio che all'architettura non conducono da nessuna parte dunque questa visione non si è fondata su un obiettivo esplicito di costruire una norma o perlomeno non la facciamo noi ma si è basata invece su un tipo di sguardo molto particolare che è quello condiviso da molti dei presenti che è quello dell'architetto è uno sguardo che osserva la realtà ma lo osserva attraverso degli occhiali un po' particolari per mettere in evidenza alcuni aspetti a volte nascosti e per fare questo lavoro è necessario guardare alle forme guardare alle relazioni tra le forme guardare alle loro origini la loro storia ma soprattutto avere il coraggio di prendere posizione di fronte a queste forme il nostro non è stato ma in generale il nostro lavoro non è caratterizzato da un processo di tipo analitico ma semmai da un processo di tipo sintetico e l'obiettivo è sempre quello di fornire una conoscenza se vogliamo parziale ma fortemente orientata che ci permetta di immaginare delle alternative o immaginare delle strade per risolvere alcuni dei problemi non dico tutti i problemi in questo caso andiamo avanti la lettura del territorio di Bottanuco ha riconosciuto alcuni caratteri che sono già stati citati per esempio quello del policentrismo policentrismo che però andiamo avanti è un policentrismo molto particolare quello di Bottanuco perché è un policentrismo di tipo territoriale legato alla città dell'isola come diceva Davide prima fondata sugli spazi aperti fondata sui comuni che diventano come dei grandi quartieri ma poi guardando da vicino a Bottanuco ci siamo accorti che questo luogo aveva di per sé una natura policentrica a differenza di altri tra vetture quartieri o meglio città o paesi dell'area territorio Bottanuco è un territorio del tutto particolare è molto originale secondo me allora ci siamo trovati a riconoscere una natura policentrica del comune di Bottanuco all'interno di un policentrismo più ampio come se fosse una sorta di frattale ma riconoscere l'immagine generale dentro l'osservazione di un contesto particolare andiamo avanti questo lo vediamo da ultimo magari perché mi interessa più ragionare su questo tema del policentrismo perché Bottanuco ha questa natura ma allora se lo chiedo alle cittadine di Bottanuco probabilmente loro lo sanno lo sanno perché soprattutto i più vecchi conoscono si ricordano la storia si ricordano come erano le cose o come viene hanno raccontato questi tre disegni sono in sequenza tra le soglie storiche della crescita del comune di Bottanuco la prima quella di sinistra dove vediamo solamente Cerro e Bottanuco la seconda che mostra la nascita diciamo l'inquadramento successivo alla nascita del polo intorno alla chiesa e al comune e la terza è la lettura diciamo di oggi andiamo avanti ancora ancora poi vi faccio tornare indietro vi faccio disperare un po' mi sembra che manchi un'immagine però scusa poi tornare indietro lo sanno vai indietro sì è questa quella è questa mi sembra questa allora dicevo la terza racconta la Bottanuco di oggi che ad una prima osservazione superficiale potrebbe sembrare un territorio omogeneo omogeneamente costruito allora di fronte a questa omogeneità ci siamo un po' spaventati perché abbiamo detto perché sappiamo lo sappiamo come cittadini lo sappiamo come addetti ai lavori che l'omologazione l'omogeneità sono a livello urbano hanno come conseguenza la monotonia e l'alienazione i luoghi che ci piacciono sono i luoghi che hanno identità che hanno urbanità come diceva l'Alecchino e che si differenziano da ciò che c'è in tono non perché il tono è più brutto ci piace quello perché il tono è brutto no ci piace quello perché è diverso da quello che incontro 100 metri più in là 200 metri più in là allora dentro questa omologazione noi ci siamo un pochettino preoccupati siamo andati a guardare la storia e abbiamo scoperto che è tutt'altro che omologato questo territorio ma non solo è un territorio che si presenta diffuso quasi come se in un'altra scala potessimo parlare di sprogli ma che in realtà ha dei grumi dei nodi interni che sono molto significativi e questi nodi sono un po' nascosti dentro questa diffusione allora la visione la riflessione strategica che anticipo anche se è stato il punto di arrivo del nostro lavoro però serve poi a capire nella seconda parte dell'intervento il motivo per cui sono state fatte tutta una serie di idee la riflessione strategica è stata quella andiamo avanti scusate di interpretare la presenza di questi luoghi identitari all'interno del comune di Bottanuco provare a ordinarli a leggerli intanto per capire dove erano provare a metterli a sistema per costruire all'interno di questa omogeneità una gerarchia tra luoghi identitari o chiamiamoli centrali anche se non sono al centro perché Bottanuco ha due centri e un terzo centro e nessuno sta fisicamente nel centro geometrico del territorio quindi l'unica possibilità a parte quella di inseguire l'ideale utopico di un paese di origine agricola con il centro storico la piazza della chiesa tutte le cascine intorno quella periferia e poi il territorio e qui a Bottanuco non si dà non è riconoscibile poi in alternativa c'è sembrata quella di identificare un sistema di luoghi centrali mentre in relazione tra di loro naturalmente noi siamo già siamo già andati avanti dieci anni abbiamo già fatto come dire abbiamo già letto il cinema quindi devi far questo e devi far quell'altro quindi provo di commettere a sistema e legami tra di loro immagino che poi ci possono essere dei progetti che realizzano questa cosa ma per fare questa operazione era opportuno riflettere su questa identità e capire la loro natura e il loro carattere allora ci è sembrato e questo diciamo è la parte più scivolosa dell'operazione che facciamo perché è del tutto una proiezione potrebbe essere smentita dalla storia quella che verrà ci siamo immaginati che abbiamo costruito prima una mappatura di questi luoghi poi abbiamo cercato di mettere in relazione e abbiamo letto una forma che è quella rappresentata da quel diagramma a sinistra in alto a sinistra in basso a sinistra che mostra l'incrocio di due telai di due sistemi di luoghi che formano una specie di T che ha come punto di intersezione proprio il luogo dove siamo adesso allora il luogo non è un centro ma è un sistema complesso e questo sistema complesso però in qualche modo deve avere una sua identità non può essere solamente una riflessione sulla forma e sullo spazio ma deve essere anche una riflessione sul rapporto che questi forni e questi spazi costruiscono con la vita delle persone allora mettendo insieme il transetto est-ovest come l'abbiamo chiamato che tiene insieme il centro storico di Bottanuco tiene insieme il comune e chiesa tiene insieme lo spazio sportivo e l'aggancio sulla strada provinciale abbiamo interpretato questo sistema come un sistema più fortemente orientato all'idea dei servizi quindi una città costruita artificiale con tutti i servizi che servono alla cittadinanza mentre il sistema nord sud che di nuovo parte dal nodo chiesa comune scende adesso sud intercettando alcuni elementi interessanti parco l'area del cimitero interessanti dal punto di vista paesaggistico e poi arriva al centro quasi come se fosse un sistema diciamo di strada parco dove prevalgono un po' gli elementi vegetali prevalgono delle visioni paesaggistiche e questa idea ci sembrava molto interessante poi ci siamo accorti che questo sistema non è da solo dentro il territorio di Bottanuco perché Bottanuco ha una straordinaria risorsa paesaggistica che tiene insieme tutto questo e gli dà la possibilità di non essere come dire di non navigare nello vuoto che è quello della presenza del fiume e di tutta l'area diciamo a margine del fiume parco dell'Anda l'area dove cave recuperata i sistemi che ancora adesso ci sono l'arrivo al fiume attraverso i percorsi esistenti la possibilità di immaginare una riqualificazione del sistema dei percorsi lungo il fiume esistenti sia da Cerro che da Bottevoco che alla fine costruiscono quell'immagine che vedete in basso-sinistra che mostra i due transetti ma mostra anche il elemento che li articola uno con l'altro e li mette in relazione a una figura territoriale molto più chiara io mi fermo perché ho già parlato troppo lascio la parola a Silvia perché Silvia Di Mauro che sta facendo un dottorato di ricerca politico di Milano si occupa tra l'altro nel suo dottorato di progetti strategici di riuso nel comune di Vortaluco e anche nel collegamento con l'architetto La Pietra abbiamo ancora dieci minuti dieci minuti direi che sono perfetti adesso l'obiettivo dell'intervento di Silvia dopo che io vi ho detto le conclusioni perché io sono già arrivato a rievi che l'assassino del giallo lei vi racconta come si è sviluppata invece questa vicenda e vi mostra un po' le premesse Buongiorno grazie tutto il processo è stato suddiviso tutto il processo se torniamo all'indice iniziale che vedevamo nella presentazione da davanti è stato suddiviso in diversi temi che cercano di tenere insieme la complessità del territorio e tutte le varie stratificazioni che lo compongono e all'interno di questi temi di strumenti che abbiamo utilizzato per andare a svilupparlo per andare a sviluppare ogni punto sono diversi e dipendono poi dall'interpretazione che abbiamo voluto dare e da ognuno di questi può essere ricavato andando dopo la strategia progettuale il primo impatto avanti ancora fino a dopo qui il primo step che abbiamo fatto per studiare il territorio è stato quello di metterci nella prospettiva dell'uomo e dell'abitante che percorre questi spazi e di cercare di sottolineare quali sono i landmark e i punti di riferimento riconoscibili nello spazio quando si percorrono gli strani spazi pubblici di questo luogo che sono sia caratterizzanti dello spazio costruito ma anche andando avanti molto caratteristici anche dello spazio legato all'ambito naturalistico e agricolo che riescono a differenziare gli ambiti appunto riconoscibili come dicevamo prima da quelli dell'omologazione del territorio più della dispersione se passiamo al capitolo successivo genesi dell'assetto morfologico del territorio questa parte è stata sviluppata attraverso un'analisi comparativa delle soglie storiche che hanno portato alla conformazione del territorio a partire dai catasti e dai user quindi capire quali sono i user che persistono all'interno del territorio ma soprattutto proseguendo quelli che i segni degli spazi urbani e del tessuto costruito che persistono fin dai primi insediamenti che sono quelli più scuri che emergono non solo all'interno del paese ma andando avanti anche all'interno dello spazio urbale che mantiene alcuni segni che risalgono addirittura alle centurazioni romane e che quindi possono essere dei segni da valorizzare e da mantenere all'interno del territorio proseguendo scendendo un po' di scala all'interno di questi territori abbiamo analizzato e categorizzato anche quelli che sono i tessuti e le modalità di aggregazione del tessuto urbano ma anche proseguendo la relazione tra il tessuto urbano e la morfologia del territorio che a Buttanucco è molto curiosa perché forma delle fasce omogenee di tessuti che sono qui del centro storico del tessuto della frammentazione del tessuto industriale che si ripetono sia a Cerra che a Buttanucco nello stesso urbine a partire dal dettivio frutale quindi molto connessa all'aspetto morfologico del territorio proseguendo siamo andati ad analizzare poi le caratteristiche di queste emergenze storiche che abbiamo individuato cercando attraverso un'analisi delle alterazioni del tessuto storico di capire proseguendo di estrapolare un modello che è quello della tipologia che compone la maggior parte del tessuto che è quella plurale appunto estrapolando delle caratteristiche base proseguendo siamo passati a cercare di capire quali elementi attraverso un abaco sono stati conservati con lo scopo di indirizzare verso la conservazione di alcuni elementi importanti all'interno delle stratificazioni materiali che ci sono state ma andando avanti cercando anche di distinguere da quelle che sono state le alterazioni quindi da uno strumento di analisi del contesto esistente proseguendo siamo passati appunto all'indicazione di quelli che sono i sistemi urbani che poi sono entrati all'interno del progetto e abbiamo cercato di produrre una sequenza di visualizzazioni in sezione per capire le caratteristiche di questi spazi che compongono i sistemi e dare appunto uno strumento di analisi delle sequenze sia per la direzione est-ovest che andando avanti per la direzione nord-sud ma anche prende una campagna fotografica di analisi di tutti i paesaggi che poi si incontrano all'interno di questi percorsi questi spazi pubblici sono infine stati proseguendo inseriti all'interno del contesto ecologico naturalistico e rurale che ha appunto evidenziato poi un'aste di spazi pubblici nord-sud caratterizzati dalla presenza di verde e quindi anche potenziali ma andando anche a far emergere non solo lo spazio naturalistico dell'ambito dell'Alda ma anche il PIS che riguarda l'altro lato del municipio di Portanuco che si connette con tutta l'isola del Giamasca proseguendo questi sistemi di spazi pubblici sono stati poi inseriti all'interno del sistema in un'erogico più di sistema di connessione con la città intercomunale e il futuro progetto di Ponte sull'Alda per cercare di capire quali fossero i punti nodali di connessione tra i sistemi e il contesto generale dell'isola individuando questi due assi che connettono l'Alda e il PIS con i nuovi futuri progetti di trasformazione che saranno quelli della pista ciclopedonale e del Ponte entrando di nuovo all'interno di quella logica sistemica che poi deve utilizzare soprattutto che ha permeato un po' tutto il progetto di ricerca e allora per i risultati che abbiamo visto in facilenza grazie grazie intanto che definiamo il collegamento con l'architetto Lapietra aggiungo una nota il ponte in previsione che avete visto sull'Alda è un ponte che ha carattere ciclopedonale quindi non è un'asse di aria e va un po' a tagliare quell'anello di più di 20 km e ci consentirà di avere un'ottima condizione anche con l'altra sconda con l'alizaia dall'altra nuova di Gendina la presentazione dell'architettore Lapietra la lascio a Davide Fortini che è meglio di tutti conoscere la storia del professor Lapietra ha un compito di sintetizzare qualcosa di molto molto vasto parlare di Dugo Lapietra è complicato perché immagino che molti di voi conoscono il nome Dugo Lapietra che ha attraversato la storia del design radicale degli anni 70 italiano ma è una figura complessa perché architetto designer artista scrittore perché l'abbiamo invitato perché la pietra da questi suoi molteplici sguardi ha sempre attraversato il tema della città e del territorio come l'oggetto della sua riflessione e l'ho attraversato da un punto di vista eretico quasi facendo che cosa facendo un'analisi valoriale di tutto quello che negli anni in cui si costruivano le periferie nella grande città era considerato scarto se conoscete pensate al suo lavoro il suo ciclo di lavoro che si chiama gradi di libertà recupero a rinvenzione è tutto il lavoro sulle parti periferiche della città in cui i cittadini si riappropriavano degli spazi e ricostruivano quegli spazi con propri immaginari e lui attraverso la propria azione artistica ha detto che quello era un sistema di qualità e non di svalore ma ha anche attraversato la città i segni della città con una dimensione estremamente ironica e ludica se voi conoscete il suo ciclo di lavoro che è le attrezzature urbane per la collettività quando lui riprende la molteplicità degli arredi urbani e li reinventa e li trasforma come nuove occasioni per stare all'interno delle città si capisce quanto il suo sguardo sia centrato sulla città ma quanto sia importante per lui riconoscere la creatività che sta dentro la città la creatività di chi abita la città e dentro questo percorso un'altra sua fase di ricerca e di lavoro è quella che ha portato a ragionare su come si comunica all'interno della città per la pietra la città è un grande sistema comunicativo disorganizzato e quello che lui ha cercato di fare è soprattutto dal punto di vista artistico ma anche con alcune esperienze progettuali provare a riconnettere un sistema unitario e comprensibile ciò che la città comunica e come lo comunica in piccolo questa esperienza di rigenera è qualcosa che va in quella direzione noi abbiamo chiesto alla pietra di intervenire in questo seminario proprio per eccolo qua che c'è scusa sì ci vediamo sì vi sentiamo oh bene siamo a posto bene tanto sono contento che ho fatto questo collegamento un po' forzoso portato opportunoso allora io ho dato l'ora vi ringrazio per questo invito mi fa piacere di riprendere le tematiche che ho già portato nel passato con lo stesso Portini e che vuole adesso stare riprendendo in modo molto sistematico mi fa piacere mi sentite sempre tutto a scorsa sì sì la sentiamo bene allora ecco come dicevo mi fa piacere riprendere queste tematiche che sono tutte quelle del recupero degli spazi diciamo poco conosciuti spesso abbandonati qualche cosa legati anche a una memoria più profonda che spazi che sono presenti ma adesso non sono ignoranti quindi questa mantatura questa ricerca questo diciamo interesse da parte nostra di andare a cercare una lettura diciamo più profonda di quello che è la realtà urbana è un aspetto molto interessante perché il parolo prelude proprio ha una serie di aspetti metafoncettuali che possono portare appunto alla rinascita o alla crescita o alla valorizzazione di certi luoghi allora una delle cose più importanti e interessanti proprio in questa operazione è andare a cercare questi luoghi e scoprire che sono luoghi che hanno una forte importanza che è quella appunto di conservare di avere in sé delle possibilità di intenzionalità quindi diciamo che vedo in sé molti luoghi come luoghi dell'attesa luoghi del desiderio luoghi che possono essere diciamo pensati e proiettati in un futuro di crescita questi luoghi dell'attesa sono luoghi sempre positivi sono cari di positività sono luoghi che nel passato proprio dalla fine degli anni sessanta io ho scoperto guardando le terzerie urbane come il di Milano ho scoperto proprio che esistevano questi gradi di libertà così ne ho chiamati cioè la città verso la terzeria diventa sempre meno efficiente quindi ci sono delle forme di sbagliatura queste sbagliature urbane lasciano dei gradi di libertà lasciano delle componenti diciamo di possibile intervento sono quei luoghi che spesso gli architetti sono negativi che non sono stati né pensati né progettati ma spesso invece sono proprio i luoghi dell'attesa sono i luoghi per cui uno proietta tutta una serie di possibili diciamo pensieri progettuali e sono i luoghi dove c'è quello che ho tracciato nel passato che sono le mappature delle tracce lasciate dagli individui tracce che sono alternative a quelle di una autorizzazione urbana fatta dagli urbanisti quindi sono tracce ma sono anche esperienze di recupero e di rinvenzione cioè di gente che è proprio di certi spazi che ricrea che rinventa costruisce materiali oggetti strumenti attraverso diciamo i materiali di scarto magari della società e rinventa in una serie di spazi e di attrezzature che allora venivano chiamate però non si possono chiamare non sono molto urbani ma sono molto urbani allora erano accusivi quindi avevano una caratteristica molto particola ecco diciamo che la ricerca di questi luoghi la scoperta di una realtà diciamo sommersa è quello che è la parte iniziale di un percorso che è quello che ci dovrebbe portare a leggere una realtà urbana che è quella di una città come le nostre città che sono sempre più diciamo poveri di comunicazione la segnaletica che voi ritrovate come porti in Italia è proprio un primo passo per annunciare un percorso e soprattutto un metodo di lavoro ma anche l'inizio di una rivoluzione se volete che è quella di pensare che la città deve comunicare e in effetti la città non comunica lo sappiamo benissimo perché il progetto di comunicazione urbana sono le pietre diciate cioè praticamente la città non comunica non ha strumenti per comunicare gli unici che si ha diciamo gli unici strumenti che si è dato sono la segnaletica urbana che è un po' per cosa e quindi diciamo tutta la nostra azione di progettisti di artisti di intellettuali eccetera dovrebbe essere proiettata verso questo questa grande tematica la mancanza di comunicazione poi è quella che genera tutte le deformazioni e le degenerazioni diciamo urbane pensiamo soltanto al fatto che non potendo non avendo strumenti di comunicazione la gente si muove con molta difficoltà non capisce dov'è non si rende conto che cosa sta facendo nell'ultimo mio libro che ho scritto che ho rappresentato da pochi giorni da Milano un libro che ha come titolo viviamo affollate solitudini ecco tutti noi sappiamo quanto sia un fenomeno relativamente recente perché la morita è un fenomeno che parte dagli anni 80 ebbene voi sapete benissimo quanto quanto disagio c'è in questo tipo di manifestazione urbana la gente non riesce più a stare nella casa nelle case le case hanno perso le abitazioni hanno perso il valore per una volta lo dimostra il fatto che praticamente tutti i nostri grandi o medi o piccoli produttori di mobili i cosiddetti mobili i granzori e non solo non fanno più mobili la gente non arriva pure le proprie case pensa e desidera e vuole vivere nella città e questa città però non li accoglie e la città non li accoglie perché alla città mancano in tanti tantissimi strumenti cominciando da quelli della comunicazione che è il tema che in questo momento a voi interessa di più è chiaro che la comunicazione non è un problema di oggi è un problema che è nato tanti anni tanto vorrei solo ricordare come nel 72 ho fatto una mostra al MoMA di New York dove ho presentato appunto il cicerone elettronico del videocomunicatore ed è che in poche parole era una gabbina dove uno poteva entrare una gabbina urbana dove uno poteva entrare e lasciare un messaggio visivo questo messaggio poteva essere ripreso dallo spazio privato e poteva essere anche poi proiettato nello spazio pubblico quindi il videocomunicatore il cicerone elettronico tutta una serie di strumenti che ci potevano far capire dove siamo cosa siamo come abitiamo pensate solo a una cosa la più modesta a livello di comunicazione il cicerone elettronico un vecchio strumento che si usava nei musei la stava mettendo una monetina e ti spiegavano il significato di quel quadro ecco pensate a un cicerone elettronico su una biglia o di un partia qualsiasi come ho fatto a Berlindo nel 74 nel 75 in uno spazio molto anonimo e assolutamente diciamo senza nessun tipo di possibile lettura molto anonimi in questo cicerone elettronico un uomo si metteva la monetina e ascoltava la storia di un signore che abitava all'ottavo piano questo strumento così raccontato è proprio il germe se vogliamo di una possibile operazione in un mondo più complessa ci sono strumenti quasi primitivi cioè praticamente qualcosa che si può fare nella nostra città perché la città dovrebbe poter comunicare beh a un tempo la città anche in modo modesto comunque relativamente modesto non riusciva a comunicare sappiamo benissimo come l'architettura di un tempo come il palazzo del principe era una struttura che comunicava verso la città e quindi c'erano delle forme di comunicazione oggi i nostri cosiddetti tra virgolette grattaceri sono di spazi a noi e comprensivi che non comunicano certo nessun tipo di valore o di significato per la vita pubblica e così noi abbiamo questo problema che non è solo quella della comunicazione cioè quando dicevo che abitare è essere comunque a casa propria che è uno slogan che ho usato tanti anni fa ma che voleva dire che noi dovremmo abitare la città come abitiamo il nostro spazio privato cioè con il nostro spazio privato noi studiamo ci divertiamo comunichiamo riposiamo giochiamo facciamo tante cose oggi nella nostra città facciamo solo una cosa c'è solo i ristoranti cioè facciamo soltanto le nostre città sono piene di ristoranti di persone molto diciamo discutibili per non dire delle parolacce perché siamo in pubblico perché praticamente siamo abbiamo proprio gli spazi nostri perché ci sono spazi collettivi per fare i loro diciamo i loro gazzelli chiamiamoli così in termini molto eleganti per appropriarsi quindi di spazi urbani dai marciapiedi all'isolo pedonale ai giardini ai giardinelli sono tutti quei presi diciamo in termini di aggressione delle proprie da parte di questi individui quindi il tema di abitare su una cosa propria dove appunto non solo c'è l'aspetto come l'aspetto domestico quello del gioco o del riposo ma c'è anche la comunicazione come appunto avviene nel nostro spazio più alto quindi la vostra se ho ben capito che magari cioè ho visto le cose sotto il mio punto di vista ma se ho ben capito quello che state cercando di fare è proprio l'inizio di un percorso che è quello che porta a sviluppare questa tematica una delle tante tematiche che fanno parte della città che una è quella della comunicazione poi ci sono anche altre cose che si possono affrontare studiare pensare però la comunicazione è per voi la parte diciamo chiamiamolo il genere che inizia a sviluppare una grande tematica che ancora oggi è tutta da da affrontare tutta da sviluppare come vi ho spiegato in quattro parole ci sono cose che non vengono nemmeno prese in considerazione pensate soltanto al concetto di una o balluso di una cosa banale del mondo al vero urbano la panchina la panchina per molti è un luogo dove uno si riposa si siede e per uno come me o spero anche come voi non è così perché la panchina è un luogo anche per guardare quindi è un concetto che è spettacolare e concettuale ora pensiamo per il fatto che il nostro progetto anche il progetto che voi state sviluppando anche quello più modesto dovrebbe poter contenere sempre queste due indicazioni che erano quelle che in qualche modo servivano ai progettisti del giardino del 700 quindi cosa facevano quando c'era il giardino del 700 facevano un luogo dove carico di concettualità e di spettacolarità pensate soltanto all'avimento l'avimento era è di fatto un luogo spettacolare e anche concettuale e la panchina può essere un luogo spettacolare e concettuale può essere un luogo per riposare e può essere un luogo per guardarmi e può contenere questi due elementi che sono poi opposti per concettualità e spettacolità sono due elementi opposti ma tutti e due possono essere messi insieme e dare dei frutti in molto importanza sul piano del progetto ora non so se ho divagato tanto o troppo è chiaro che quello che diciamo questo mio intervento nasce da non solo dalla vostra sollecitazione delle vostre ricerche da quello che sta facendo Portini abbiamo guardato insieme anche nel passato questo mio intervento è per ricordare da tutti che dobbiamo fare ancora tantissimo che la città ha delle carenze gustose sul piano del progetto e la comunicazione è proprio per tutti un'intericità più calente perché come vi dicevo la comunicazione della nostra città non è mai stata minimamente affrontata e questo è un tema che però mi fa piacere di voi lo state iniziando a sviluppare e torterà sicuramente dei grandi frutti quindi io vi faccio tanti auguri e vi chiedo soprattutto di continuare a fare questa operazione perché sicuramente è quella che porterà le risultate anche forse più modesto risultato che quello di dire abbiamo creato una struttura capace di indicare e di far capire la struttura profonda di questo luogo perché noi abbiamo il nostro paese il nostro città li leggiamo li raccontiamo abbastanza ma sono forse addiritture molto superficiali non certo profonde non si capisce molto di quello che noi abitiamo vi faccio solo un esempio e poi credo questo mio intervento così appassionato se volete pensate alla città militare dove tutti conoscono quanta gente è passata a Milano è andata vicino al quartiere Breva e nessuno si è mai accorto che quel quartiere è un quartiere diciamo museale cioè già negli anni 60 lo storico gruppo di Mussolini diceva parlava della granna d'Ebreva cioè parlava di un territorio dove c'era un sacco di musei quello di risorgimento dove c'era o se aveva la sua astronomica una zona particolarmente carica di valori esteticati culturali e quindi nessuno percepisce passando di lì questa realtà mentre ci sono città che esprimono invece attraverso un linguaggio quindi attraverso dei segni attraverso una certa comunicazione che è per esempio un quartiere un quartiere dei divertimenti che è un quartiere dove si fanno nel mercato eccetera ecco quindi la città non deve comunicare ha degli strumenti per comunicare e noi e non basta però quello che noi usiamo tantissimo come vi faccio ad esempio la grande brega ci sono realtà un po' più nascoste un po' più profonde che avrebbero bisogno di essere percepite e quindi ecco che anche una modesta senza diciamo subito il lavoro anche una modesta segnaletica capace di dire qui una segnaletica che non è fatta naturalmente della freccenta che dice visito più musei ma secondo un progetto che ho fatto proprio negli anni 80 della territoria un'opera attraverso una serie di elementi monumentali che ricordano la cultura e la scultura e c'era di farvi conoscere al cittadino il passaggio che quella è una realtà che ha di profondi caratteristiche di carattere museale e culturale questi sono diciamo e in questo senso credo che molto si debba fare si possa ancora fare tanto quindi vi auguro tutto il bene di continuare a lavorare in questo senso ringrazio il sindaco per naturalmente sostenere tutta questa operazione e anche se è una vostra operazione diciamo periventa nel senso che non appartiene al centro di Milano dove c'è la grande breve eccetera eccetera però tutte le cose migliori sono quasi sempre nate proprio alla periferia della nostra società nel centro quindi io mi riconosco molto bene nel lavoro che state facendo voi quindi ci alziondettico ci risentirei se ci sono domande non mi sono molto sì architetto mi sente? perfetto guardi le rubo ancora qualche intanto la ringrazio ma poi prima di salutarlo ovviamente anche la sala sono certo che le ripributerà un doveroso applauso ma le rubo ancora pochi minuti perché noi abbiamo delle immagini che lei ci ha mandato e che io vorrei condividere chiedendole se possibile di commentarcele se mi dai modo di farlo perché condivido lo schermo allora condivido lo schermo così che anche lei possa vedere credo spero che lei riesca a vedere le immagini ecco questa qui questa è un'immagine proprio che mi sale appunto il tema che vi dicevo delle trance cioè dei segni che nella periferia urbana si scoprono tutta questa segna l'etica però fatta dalle persone cioè i percorsi alternativi rispetto alla struttura urbana sono costruita e programmata dall'urbanista quindi sono quelli che vi ho citato all'inizio del mio discorso quando parlavo di grande libertà ecco potete andare avanti ancora ecco queste sono tante trance che ho trovato appunto delle periferie che sono molto significative che fanno parte di quel discorso organizzato sulla comunicazione ecco quindi ci sono persone che attraverso il loro comportamento comunicano un punto comunicano una serie di cose e andiamo più avanti anche questa un'immagine e questa invece è la tua immagine molto diciamo provocatoria che è quella della segna retica sì è vero che esiste un segna retica ma una segna retica può anche la sua modesta divisione di strumento o anche indicare appunto qualcosa di più di quelle che sono la semplice segna retica fatta per utilizzare un traffico verso una zona piuttosto che un'altra quindi anche la segna retica nella sua dimensione modesta può anche diventare uno strumento di comunicazione va eppure avanti eppure così poi anche qui ecco qui si vede come un piccolo progetto che sto portando avanti per la città di Pescara è proprio quello di iniziare a costruire dei piccoli libri aperti in pietra su cui collocare delle frasi degli aforismi diciamo di antiga indiocraiano grande scrittorone è nato proprio a Pescara questi sono dei prodotti questi libri aperti in pietra da collocare nella città capaci di comunicare in questo caso qualcosa di molto più profondo che sono appunto alcune frasi di indiocraiano che è appunto celebrato soprattutto che dovrebbe essere celebrato a Pescara a Londra la città della prima nascita come è stato celebrato nel passato da Dugio che anche lui è una foto a Pescara allora questi sono piccoli progetti urbani di comunicazione ecco questi sono sempre libri aperti da collocare appunto una sola di libreria e che raccontano un punto delle cose e quindi vediamo questa è una panchina la panchina è però anche questo come dicevo è uno strumento ma un strumento che può essere molto modificato sì da concettualmente che dal punto di vista formale in questo caso la panchina ha delle grandi braccia perdite si chiudono e si collegano ad altre macchine creando proprio dei veri pochi spazi diciamo privilegiati in particolare o dei ciaffini o dello spazio urbano ecco e qui in questo ultimo disegno poco legittima tanto per lì sono tutta una serie di studi che sto facendo in questi ultimi tempi dove praticamente non potendo non potendo progettare pensare a trasformare profondamente nella nostra città a cui manca molto e manca forse tutto allora era uno dei rimedi che è quello di riuscire a costruire dei gazzelli ma i gazzelli che cosa sono sono i luoghi di di decompressione i luoghi di decompressione sono i luoghi dove praticamente erano come nel giardino del settecento erano i luoghi che vuole prendere il tè vuole subire la musica vuole fare l'amore quindi sono i luoghi che evitano il spazio urbano sono i luoghi di sospensione i luoghi dove praticamente si recupera quel tanto anche se diciamo sono dei microambienti quel tanto che la città non riesce a dare che possono che può essere una mancanza di di aria pulita una mancanza di 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 silenzio comunque di suoni molto non aggressivi eccetera quindi questo è uno dei progetti recenti che sono dei modelli dei modelli di pensiero che dei progetti per i propri quindi non prendete come progetti reali sono progetti diciamo di pensiero che si chiamano nel nostro linguaggio di architetti si chiamano meta progetti che uso di fare che basta questo va bene grazie grazie la ringraziamo davvero davvero per la sua grande professionalità e come dire ascoltare da lei che nel 72 vaticinava il cicerone elettronico ed essere qui noi oggi a presentare uno strumento che di fatto alla fine se volete è qualcosa che molto si avvicina a quell'idea siamo arrivati adesso ma ci siamo arrivati bene bene bravi grazie tutti i miei tutti i miei amuri grazie a lei a presto arrivederci grazie allora direi che a questo punto comunque ho cominciato a fare le domande a Marco Lovati o a Silvia o a o a Paolo Gritti riguardo a Davide Prottini che sono stati affrontati se qualcuno ha qualche domanda qualche richiesta specifica rispetto al progetto con questo modo noi andremo ancora a fare la grima al sole andremo a fare ancora la grima al sole io dico solo che nella storia del mio paesco che io ho frequentato il cambio radicale di pensiero è stato leggere i vuoti come i pieni e leggere i pieni come i vuoti cioè se una disfunzione c'è nell'abitare probabilmente è stata prodotta mentre in cui è arrivato l'industrialesimo le città hanno prodotto ad esempio Bottonucco con l'espansione industriale alla del di là della via Rassia che ha prodotto una non città e si è dimenticato invece che il supporto il tessuto connettivo tra i territori e il territorio agricolo e questa perdita di capacità di relazionarsi con questo territorio è un problema perché lì dentro ci sono tutte le reti funzionali ecologiche c'è l'acqua c'è la natura lì dentro e quindi ritornare a farla dimensore forse serve un auspicio più che una paura cioè tornare a occuparsi del territorio che abbiamo ritenuto vuoto che riteniamo dei vuoti perché noi quando leggiamo nel mappare il territorio quei territori sono sostanzialmente vuoti invece provare a tornare a riempirgli il significato quindi io in realtà mi auspicherei che si trassa parla certo che la popola la gente lo farò su più la casettina non cosa perché il sistema dei progetti è arrivato tra l'architette e studiato lo comparto però perché in questi anni dopo 60 90 se ci metterci insieme la nostra carnetina non si ricorda non si può purificare che voglio il lavoro non si può cambiare mi sento di dire che il punto di vista però dovrebbe essere un pochino più coraggioso e lungigrante se mi permette il punto di vista dovrebbe essere un pochino più coraggioso e lungigrante non possiamo più pensare ad una logica di come le ha chiamate lei casecchine di omogene disaggregate che non stanno in un disegno complessivo questo non vuole dire che ci deve essere qualcuno che dice come deve essere fatta la casa quanto deve essere grande come deve essere quale colore deve avere ma deve esserci un disegno complessivo armonico che deve essere evidentemente guidato dalle istituzioni e da persone evidentemente che hanno le competenze per poterlo fare e questo non ne ho e per questo non sono circondato da persone che competenze ne hanno mi viene da pensare che però tutta la diciamo la genesi dei nuovi principi dei nuovi strumenti urbanistici che nascono dal ptcp della provincia piuttosto che dal piano territoriale del parco alta che hanno definito le aree agricole strategiche che hanno definito la riduzione del consumo di suolo per un 20% di provincia un 20% di regione più un 5% di provincia ci portano nella direzione e forse mi lasci dire finalmente di mettere mano ai nostri centri storici in una maniera però seria e conservativa andando come dire ad abbandonare quella strada che ci ha portati ad avere apparentemente un territorio come dire omologato che è quello che sulle prime Politecniche si è trovato di fronte quando è venuto a leggere il territorio di Voltero possiamo poi scoprire che invece c'erano delle interessanti letture che le abbiamo viste la strada dei servizi quindi la parte del comune oratorio scuola scuola materna supermercato e poi la strada quella che è stata chiamata strada del parco una strada verde una strada che ci porta verso l'alta che è il nostro è una delle nostre ricchezze nostra intendo come votano ricchezze più importanti e tutto il lavoro che l'amministrazione comunale sta portando avanti insieme al Parquata per recuperare le aree della cava che sono quella via di mezzo tra il centro abitato e il comparto fluviale va proprio in questa direzione cioè recuperare anche i collegamenti che ci portano che ci portano verso l'ultima da questo punto di vista il comune ha fatto diversi investimenti alcuni vedranno la luce anche quest'anno con il ripristino e la sistemazione proprio di alcuni di quei passaggi di quei sentieri che da volta lungo portano diciamo dal paese portano lungo il fiume verranno recuperati in particolare i due sentieri che sono quello come direte il vecchio acquedotto quindi quello che noi chiamiamo anche sentiero degli alpini perché nel 2001 gli alpini fecero proprio un campo partecipano ad un campo internazionale di sistemazione di quel sentiero che poi porta alla famosa rosa alla roggia che conduceva l'acqua controcorrente rispetto al corso del primeada controcorrente perché raccoglieva tutte le fonti e le sorgenti e le risorgive del cerco del lato e le portava dove c'era il mulino quindi le portava a monte controcorrente rispetto al fiume verrà sistemato quel sentiero verrà sistemato il sentiero che dal prato di San Giorgio porta al prato dell'Ade e da lì al puntalì puntalì che è uno dei punti che è stato intercettato nella georganizzazione sonora e che non andremo oggi a vedere perché è un po' poi in mano ma ci metteremo a muoverci qui qui attorno puntalì che puntalì di botanunco prato dell'Ade di botanunco prato dell'Ade del cerco sono la memoria storica delle nostre nonne delle nostre bisnonne dei nostri bisnonni le nostre bisnonne correvano all'Adda che tra lo più quando erano bambini a prendere il posto al sole migliore perché i panni stesi al sole ad asciugare a metà a resendà si diceva a resendà diventavano più bianchi e quindi si faceva la corsa a prendere il pezzo di prato migliore da lì sono nati amori sono nati famiglie sono diventati grandi ragazzi e oggi però quei luoghi sono stati abbandonati lì è cresciuto un posto non c'è più un prato qualcuno mi ha dato delle fotografie degli anni 60 70 dove si rivedeva ancora il prato e poi il bosco riprende la sua legittima proprietà e rinasce il bosco rinascendo il bosco però si perde un po' di quella che è la memoria dei cittadini e delle persone che lì ci hanno abitato questo non vuole dire che dobbiamo riportare il prato lì ma forse riportare la memoria lì ci aiuta come dicevo in apertura a rimettersi un pochino in carreggiata per seguire la strada del dove vogliamo andare io direi che possiamo avere concluso qui questa mattinata che è stato davvero per quanto mi riguarda molto 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 interessante ringrazio Agenda 21 ringrazio il Politecnico di Milano ringrazio la Fondazione Architetto di Pertano ringrazio Claudio ringrazio il mio parco farò ancora l'architetto La Pietra che ci ha dato dall'alto delle sue primaverie uno sguardo sempre provocatorio e sempre anche qui proiettato verso il futuro e quindi adesso Claudio possiamo procedere con il momento conclusivo che ti lascio il compito di illustrare grazie ci trasferiamo semplicemente qui a distanza di 50 metri di quello che attualmente è il piazzale del mercato che ospita il mercato chilometro zero che è comunque un'iniziativa di 1921 sui costi comuni e proveremo magari a utilizzare il QR code per avere l'indicazione che è riferita un po' a quel luogo che in passato è stato principalmente nel nostro ricordo il campo di Tamburello quindi il primo input è un input sonoro e si sente sotto il gioco del Tamburello che era molto caratteristico del nostro giocatore e poi andiamo a utilizzare un giocatore che professionista rispettamente se no si tratta pure quindi magari ci faremo descrivere da lui come funziona esattamente e mi ricordo magari prima di uscire per chi non l'ha ancora fatto di firmare il registro per poter terminare grazie 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 Grazie.